Più di 2.600 espositori, circa 58.000 visitatori da oltre 120 paesi, tutti a Berlino per l'edizione 2014 di Fruit Logistics, il salone internazionale del commercio ortofrutticolo. Nei padiglioni fieristici della Kermess berlinese in questi tre giorni, dal 5 al 7 febbraio, non solo l'intera gamma di prodotti e servizi a tutti i livelli, ma anche una serie di interessanti novità per il settore, capaci di fornire idee preziosi per il commercio. All'evento non poteva mancare ovviamente la Puglia, rappresentarla all'assessore regionale delle risorse agroalimentari Fabrizio Nardoni, che ha fatto visita agli stand del Tecco d'Italia, alle sue eccellenze apprezzate in tutto il mondo. Gli aziende pugliesi coordinate dalla PEO, Associazione Produttori Esportatori Ortofrutticoli, presenti nello stand collettivo della Regione Puglia e dell'Union Camere Puglia. Sotto il marchio prodotti di Puglia, in esposizione uva da tavola, grumi, meloni, ciliegie, oltre che una molteplicità di ortaggi tipici, spezie fresche e secche. Obiettivo coniugare tradizione e innovazione con forte attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e alla sana alimentazione mediante la valorizzazione della tradizionale dieta mediterranea, che trova proprio in Puglia i suoi principali cibi, dall'olio extravergine d'oliva alla frutta fino alla verdura. L'ortofrutta italiana finalmente viene apprezzata dai mercati esteri e la dimostrazione lo stiamo toccando con mano. Oggi, in occasione di questo evento fieristico, ho ritrovato grande entusiasmo e grande interesse nei confronti dei prodotti, in maniera particolare quelli pugliesi. Ciò significa che tutto quello che è stato fatto sino ad oggi, sia da parte delle imprese, delle associazioni, ma anche da parte del governo regionale, ha dato dei risultati eccellenti.